Ciao, io sono Giulia. Ciao, io sono Ramin. As-salamu alaykum. Ciao, io sono Matilde. Ok, e tu? As-salamu alaykum. As-salamu alaykum. Perché noi due non siamo Matilde. Lei è pakistano, come diciamo noi. Ah, ok. Ciao, io sono Nicolo. Ciao, io sono Nicolo. Ciao, io sono Danilo. As-salamu alaykum. As-salamu alaykum. Ma tu dove sei? Bangla. As-salamu alaykum. E tu dove dove sei? Bangla. Bangla. Bangla pure. Mi. Amandam mi. Eh, tu mi vuoi mai dire il tuo nome, vero? Amandam la viva. Ciao, io sono Viola. Ciao, mi chiamo Leonardo. Ma come? Ma pensare a questo bambino? Parla molto strano. Come ti chiami? Leonardo. Leonardo. Leonardo? Ah, e sei l'inventore? Leonardo è l'inventore? Amici. Ah, ok. Ciao, io mi chiamo Davide. Mi chiamo Franenzo. Franenzo. E tu da dove vieni? Filippino. Dimmi tu? Filippino. Filippino. E tu? Tu come sei? Non parla. Non parla. Ma mi dice il tuo nome? Franenzo. 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 Come si chiama lui? Che quel? Ci vuoi dire ciao? Con la mano. Con la mano? Con la mano? Ma guardami qua, guardami qua. Se non si pensano che stai... Marcalo. Ok. Mi chiamo, mi chiamo Luigi. Ah, e tu da dove vieni? In Cina. Ah, io sono Mattina. Mattia. Ciao, io sono Domingo. Dimi tu? Ciao, io sono Stefania. Stefani. Hallo, ich bin Emilia. Ich bin Emilia. Emilia de dove vieni? Ich komme aus Deutschland. Deutschland? Oh! Deutschland. Deutschland. Ciao, io sono Vladi. Vladi? Vladi, come? Colapvo. Vladi. 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 Allora, aspetta anche le maestre. Salve. 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 Ok. Ciao, io sono Maria. Maria. Ok, e tutti voi insieme chi siete? Allora, le maestre ci fanno fare tutti dei cartelloni molto colorati. Questo è un cartellone che abbiamo fatto l'anno scorso. L'anno scorso, la seconda? Ah. Che si è abbondati in una palude. La maestra Tiziana per l'adunno ci ha fatto fare degli alberi, farli con la carta crespa. Sì. Abbiamo fatto questi alberi che era presentare l'automino, perché sta venendo. Sì. Nella stella si è abbastanza la biblioteca. E ogni venerdì prendiamo un libro da portare a casa e ce lo leggiamo. Sì. 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 Aaaaaah!